buon pomeriggio buona giornata e buon pranzo a tutti cari amici ebbene nella prima serata di ieri il nostro caro tennista con nazionale andreas seppi numero atp 98 ha superato il sedicesimo di finale il suo avversario duzumur numero atp 100 con il risultato di 2 a 1 il primo sesto l'ha vinto il nostro seppi 6 3 in 41 minuti il secondo l'ha vinto l'avversario per 6 1 il terzo è finito al tie break vinto da seppi 7 6 8 6 in un'ora è un minuto secondo sesto durato invece 26 secondi vittoria di seppi qui votata il bookmaker tra 2 2 12 quindi il nostro andreas andreas seppi passa il turno successivo agli ottavi ricapitoliamo appunto seppi supera de zumur per 2 a 1 nella prima serata di ieri nel singolare atp di new york america ciao a tutti